buongiorno cari amici buongiorno a tutti cittadini aversani sono questa mattina nella scuola elementare linguiti di aversa ecco questa quello che vi sto mostrando è il cortile della scuola elementari linguiti qui ad aversa guardate in che condizioni igienico sanitarie si trova ok questo è il cortile dove ogni mattina passano centinaia e centinaia di bambini della scuola elementare queste sono le condizioni che la nostra amministrazione guidata dal pd ha creato in questa scuola ma la cosa ancora più grave e che voglio sottolineare è questa ecco con questo con questo con questa nota con questa nota che vi faccio vedere ma che vi voglio leggere in data 4 settembre del 2019 l'assessore invisibile alla pubblica istruzione l'assessore tarantino riscontra la dirigente della linguiti e gli dice che la dirigenza dell'istituto parente è scritto è leggo testualmente quindi che la dirigenza dell'istituto parente ha messo a disposizione della scuola l'inquiti cinque aule cinque aule ecco mi metto qui così vedete lo schifo nel quale versa questa scuola elementare quindi dicevo la dirigenza della parente ha concesso immediata disponibilità di tutti gli ambienti quattro aule per la didattica ed un ambiente per la sala docenti ebbene questo lo scriveva il 5 settembre all'assessore invisibile però è sfuggito che con verbale della del consiglio d'istituto che qui che vi mostro scusatemi se non riesco ad inquadrarlo bene con questo verbale che però è di luglio ok del 10 luglio 2019 per l'esattezza concedeva l'ospedalità a solo tre classi della scuola primaria quindi praticamente la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra ovviamente questo accade quando si mettono incompetenti e dilettanti allo sbaraglio al governo di una città quindi ricordo ripeto che il 10 luglio 2019 il verbale del consiglio d'istituto deliberava tre aule mentre l'assessore garantino il 4 9 2019 dice che le aule sono cinque ovviamente questo che cosa comporta comporta che la dirigenza di questo istituto dal quale appunto sta smettendo della linguiti si è trovata all'improvviso a far fronte ad una carenza di altre due aule questa carenza di altre due aule oggi comporterà l'anno prossimo ho appena appreso questi dati perché non potrà più assumere nuove iscrizioni comporterà un decremento per l'anno scolastico 2020 2021 di 180 alunni 180 alunni non potranno più iscriversi alla scuola linguiti che è una delle scuole forse l'ultima scuola che è rimasta l'impianto del centro storico non porta non potranno più iscriversi 180 alunni ma la cosa più grave cittadini aversani la cosa più grave è che dieci docenti andranno in sovrannumero cosa vuol dire questo vuol dire che per colpa di questa amministrazione comunale che non ha provveduto a dotare questa scuola innanzitutto delle norme igienico sanitarie di base ma soprattutto delle aule sebbene richieste in tempo per l'anno prossimo si paventa una uscita di dieci docenti da questa scuola e di 180 alunni un'altra cosa che è fondamentale e che ho appreso stamattina e che se così fossero le cose se restano così le cose se non intervengono immediatamente per fare nuove aule e poi dopo vi dirò anche qual è la soluzione la scuola scenderà al di sotto dei 600 iscritti sapete cosa vuol dire al di sotto dei 600 iscritti la scuola perde autonomia quindi la storica scuola linguiti perderà autonomia grazie a questa giunta grazie a questi assessori la scuola linguiti la storica scuola linguiti perderà autonomia e verrà accorpato ad un altro istituto scolastico la soluzione a tutto ciò è semplice c'è la vecchia casa del custode adiacente alla alla scuola attaccata alla scuola che potrebbe essere utilizzata bucando soltanto una parete basterebbe appunto creare un vano all'interno di questa parete per accedere dall'interno degli uffici scolastici in questa casa del custode che ormai è dismessa per creare ben tre nuove aule perché in questa casa del custode si potrebbero allocare la segreteria e gli uffici del personale ATA così facendo si libererebbero all'interno del plesso tre aule questo vuol dire salvaguardare e salvare l'istituto cittadino uno dei più storici istituti cittadini che al momento guardate in che condizioni versa al momento i nostri figli bambini che versa la mattina fanno lo slalom tra le buche tra le infiltrazioni e tra l'immondizia mentre gli assessori invisibili restano chiusi nei loro uffici percepiscono mensilmente l'indennità e scrivono queste cose scrivono in esattezze scrivono in esattezze la scuola qualche giorno fa con la loro delibera di giunta ratificata in consiglio comunale senza il voto nostro senza il voto dell'opposizione questa scuola è stata estromessa dagli interventi di manutenzione urgente che riguarda che riguarda l'impermeabilizzazione del del tetto quindi poi manderò anche le foto ora vi faccio guardare le condizioni del tetto di questa scuola che secondo gli assessori invisibili è stato appunto estromesso da quella che è la normale manutenzione bene all'interno non vi posso mostrare le immagini perché in questo momento stanno facendo scuola all'interno i bambini sono costretti a fare lezione in un laboratorio di informatica perché la loro classe è interessata all'infiltrazione ovviamente che cosa accade che non è più possibile utilizzare per tutte le altre classi il laboratorio di informatica quindi è un cane che si morde la coda e in tutto questo l'amministrazione cosa fa niente è silente fa una variazione di bilancio e mette i fondi su altre scuole che pure ne avranno bisogno ma dimenticano questa scuola sebbene ci siano state decine e decine di segnalazioni termino termino questa diretta vi saluto tutti e vi dico un'altra chicca della loro inefficienza provate tutti quanti ora in questo momento a telefonare alla scuola linguiti provate a chiamare la dirigenza la segreteria per sapere se è aperta provate a informarvi se vostro figlio si sente bene perché io l'ho avuto la febbre sapete qual è la risposta non c'è risposta sapete perché non c'è risposta perché non c'è il telefono non c'è la linea la linea è stata staccata questa scuola non ha telefono non ha fax la linea è stata staccata da mesi e nessuno la depristina questa è la nostra amministrazione questa è l'amministrazione che si permette di criticare noi dell'opposizione che si permette di dire che noi siamo silenti siamo silenti noi siamo mortificati io sono mortificato io chiedo scusa ogni giorno ai cittadini avversani ai nostri figli per quello che non stanno facendo loro che si vanno a fare poi dei video che sicuramente sono molto più interessanti di questi video che faccio io sicuramente i loro video sono più interessanti dei miei però si devono vergognare e per quanto mi riguarda per quanto ci riguarda si devono dimettere immediatamente per manifesta incapacità di governare ciao a tutti